Hello, sono Taduris92 e oggi voglio parlare di Ezreal Draven, uno dei miei mazzi preferiti di sempre in Legends of Runeterra e che circa un mesetto, un mesetto e mezzo fa è tornato col botto ed è diventato uno dei mazzi più forti del meta, reso ancora più forte dall'uscita di Cosmic Creation. Prima di iniziare, come al solito, i soliti annunci, in descrizione trovate il link con la lista del mazzo che gioco oggi, i timestamp per i gameplay così se volete saltare l'analisi o volete, sai, guardare il video in più riprese magari e trovate i link utili come il link al mio Discord, sentitevi liberi di entrare, discutere con me, discutere tra di voi, ci sono varie attività, varie cose, siete i benvenuti. Seconda cosa, come al solito, commentate, sapete quanto mi piace avere una sezione commenti, sapete quanto mi piace interagire con voi nella sezione commenti di YouTube, a differenza di Discord, i commenti li leggo subito, rispondo a tutte le domande molto molto in fretta. Ora, prima di iniziare, minchia, due list, è uscita la nuova espansione, è passata qua una settimana, ancora non hai fatto uscire niente, sì, hai ragione, hai assolutamente ragione. Ho fatto lo stream giovedì, da allora ho giocato tanto, non avevo giocato così tanto in tutto Monument of Power praticamente, e ho provato varie liste. Il motivo per cui questo video esce così in ritardo è che volevo far uscire un qualcosa di interessante, all'inizio ho provato vari mazzi, ho provato Liss in Riven, ho provato un Grand Plaza Lucian, mazzo buildato intorno esclusivamente a Lucian, poi ho provato qualcosa di più standard, che sta diventando un po' popolare in ladder, un mazzo Hecarim con tanto supporto, è sempre Clan Plaza. Vorrei anche farvi vedere queste liste adesso, ma già l'analisi di Ezreal Draven durerà parecchio, se vi faccio vedere anche queste liste, anche due minuti a lista, siamo 30 minuti prima di ogni gameplay, quindi no, evitiamo. Nella parte 2 vi faccio vedere un pochino questi mazzi, vi spiego perché sono carini, per quale motivo alla fine ho deciso di non portarli. Alla fine ho deciso per Ezreal Draven, Ezreal Draven è, come vi ho già detto, uno dei miei mazzi preferiti di sempre, mesi e mesi e mesi e mesi fa, era un mazzo fortissimo, mi sembra, prima dell'uscita di Rising Tide addirittura, prima dell'uscita di Bilgewater, e ora è tornato, parecchio diverso, con l'update di Ezreal, con tante carte nuove, con uno stile molto molto diverso, ok? Ora, il mazzo è Ezreal Draven, quindi palesemente giochiamo 3 Ezreal e 3 Draven. Il mazzo è strano da discutere, ok? Stiamo guardando un qualcosa che è difficile categorizzarlo, non è un midrange, un control, un agro, un combo, niente di tutto questo. È una via di mezzo tra un midrange, un barn lento, se volete un esempio di cos'è un barn lento, pensate al vecchio TFGP, quello era una sorta di barn lento, e un mezzo control. Fondamentalmente il mazzo ha un buon midrange, è un buon midrange, con tante rimozioni e danni diretti. Punta a chiudere le partite con Ezreal livellato e con Captain Farron. Ora, Ezreal dopo il suo mini rework è molto più facile da livellare, ma fa meno danno quando casti spell, soprattutto quando casti quelle spell economiche tipo asce o funghi che non targettano. Se casti rimozione fa comunque danni alla volta. Quindi Ezreal non è più un finisher serio e solido, o serido. Non è più un finisher serio e solido come era una volta, che potevi tranquillamente fare 14 danni all'avversario in un'azione con un paio di asce, un paio di funghi, un mystic shot e un altro spell. Ora hai bisogno effettivamente di un mazzo che gli giri intorno bene. Ezreal è un finisher, può fare facilmente 7-8 danni, 9 danni, di più è molto difficile, ok? Quindi difficilmente finisce la partita da solo. Non è... Devi buildare il mazzo molto meno intorno a Ezreal, Ezreal finisce le partite da solo molto meno che ai tempi, ovviamente. Questo è il motivo per cui Ezreal non è il centro del mazzo, come un tempo Ezreal era il centro di ogni mazzo Ezreal, è più una componente del mazzo. Un'altra componente del mazzo è Farron. Un finisher praticamente alla pari di Ezreal, che fa più o meno le stesse cose. Ezreal livellato in questo mazzo lo vediamo tra il turno 6 e il turno 7, Farron lo vediamo di turno 8, ovviamente. Farron picchiando fa danno, come Ezreal livellato picchiando fa danno, 2 più mystic shot, eh. E genera danno diretto. Il mazzo vuole fare una buona quantità di danno all'avversario in battaglia con le nostre unità che hanno buon body, quindi una sorta di midrange, e chiudere, fare quegli 8-10 punti di danno, 12 massimo, con Ezreal o con Farron, o con Ezreal e Farron, insomma. Ora, questo è il piano del mazzo. Cosa è buildato intorno? Il mazzo è buildato intorno a due concetti abbastanza unici. Il primo è 3 beam improbulator, e il secondo è l'idea di avere nel mazzo materiale di scarto e carte che te lo fanno scartare. Ci arriviamo subito. Parliamo velocemente di 3 beam improbulator. 3 beam improbulator è una carta forte che il mazzo sfrutta molto bene. Senza neanche farlo apposta, lo vedrete durante la build, giocheremo tante carte costo 3. Considerate che tutte le carte costo 3 che giochiamo non le giochiamo perché c'è improbulator nel mazzo, le giochiamo perché sono forti. Quindi improb cresce abbastanza in fretta. Questa è una carta che generalmente vogliamo tenere nel mulligan, a meno che non siamo contro un aggro spaventoso, e vogliamo cercare di farla crescere più possibile e usarla come ultima risorsa. Contro mazzi tipo Gohard possiamo usarla come refill, dopo che lui ci fa Gohard noi sbattiamo 3 beam. Contro mazzi più midrange possiamo tirarlo magari più avanti possibile, rimuovergli un'unità grossa sua e calare un'unità grossa nostra. Generalmente si può usare per tempo, quindi magari turno 4, che ne so, quando è a 4 la puoi giocare a 4, rimuovergli un'unità, prendi un'unità per cercare di mettergli pressione, ma spesso e volentieri vuoi tenerla più possibile, caricarla più possibile, poi usarla per più danno e unità random grosso possibile. Ripeto, il balzo non è buildato intorno a improbulator, piuttosto il mazzo riesce a sfruttare improbulator benissimo. Questa è l'intera idea del materiale di scarto, ed è qui che entra in campo Draven. Draven è fortissimo, come al solito, sapete che è una carta che amo, ottime statistiche, quick attack, genera asce in quantità industriale. In questo mazzo vogliamo usare le asce e altre carte generate random, quindi altri token, tra virgolette, che generiamo gratis, e vogliamo scartarli per ottenere vantaggio. Il modo principale con cui lo facciamo è Rammage. Rammage è, ridendo e scherzando, una delle carte più importanti del mazzo. Trasforma tutte le asce, tutti i mushroom cloud, tutte le ignition, in pescate serie. Rammage spesso e volentieri è... lo scarta 2 lo puoi ignorare, perché le carte che scarti sono carte che tu desideri scartare, sono carte gratis, tra virgolette, che tu vuoi scartare, e peschi 2 gratis, un mana pesca 2. Rammage ti assicura di avere costantemente risorse, ti fa ciclare il mazzo, e ovviamente sono tutti spell trigger per Ezreal quando lo giochi livellato. Quindi, andiamo a discutere quali carte abbiamo che scartano e quali carte che ti danno risorse da scartare. Non è un discard, quindi non giochiamo carte come jury rig. Invece andiamo a giocare per scartare principalmente Rammage e... dove sta? me lo perdo sempre, Sampdredger. Sampdredger ha delle ottime statistiche midrange, preferiamo lui a Zaunai Turchin, perché è meglio avere un body un po' più grosso, anche se ti costa un po' di più in questo mazzo. E bonus in più, Sampdredger funziona bene con 3 beam, quindi, ecco. Sampdredger è un'ottima carta sul terreno, che trasforma le asce, tutte le altre cose da scartare, in pescate gratis, perché sono effettivamente gratis. Per quanto riguarda le carte che scartano, abbiamo Draven, cioè le carte che danno materiale, risorse, token da scartare. Abbiamo Draven, che genera moltissime asce, le genera continuamente, è ottimo sul terreno. Il problema è che le asce di per sé sono molto scarse. Le puoi usare per un danno a zero mana con Ezreal. A volte capita di poter livellare Draven, e quindi usi le asce per livellarlo, ma per il resto le asce sono principalmente inutili, e sono carte da scartare. L'altra carta che giochiamo è Champwamp. Io preferisco giocare in due copie, potete tranquillamente giocarlo a tre. Ne gioco due copie perché le statistiche non sono eccezionali, è un mana in più di Sampdredger, per le stesse identiche statistiche, non è il massimo. Qui però, i Mushroom Cloud hanno un grosso vantaggio. I Mushroom Cloud sono carte effettivamente giocabili, sono carte effettivamente utili, soprattutto in certi match-up. giocate contro Gohard che pesca un casino, gli usate, quel match-up per esempio, io userei le Mushroom Cloud tutte, gli mischi 20 funghi nel mazzo, e prenderà 4-5 danni senza neanche accorgersene. Comunque sono ottime da scartare. E poi c'è la, tra virgolette, star del mazzo, la nuova addizione nel mazzo, 3x Ballistic Bot. Ballistic Bot è insanamente forte, come ormai tutti sanno. Questo mazzo lo sfrutta in un modo particolare, è molto ottimale. Non solo le Ignition abbassano la vita dell'avversario, e quindi ci lo avvicinano al punto in cui lo puoi uccidere di Ezreal o di Farron. Le Ignition ovviamente attivano Ezreal, quindi sono danni bonus in più quando lui è livellato, ma soprattutto le Ignition le possiamo scartare. Lui ogni turno ci dà un fodder da scartare, quindi Rammage, Sampdredger, sono costantemente gratis, praticamente, se c'è Ballistic Bot sul terreno. non deve fare niente, non deve attaccare come Drey, no, niente, lui esiste e ti dà risorse gratis da scartare. E a differenza delle Ashe, le Ignition sono buone anche quando le vuoi usare. Ballistic Bot è fantastico, poi ha varie altre sinergie, quando usi Ashe o quando usi funghi, Ballistic Bot può crescere di attacco, è un'ottima carta per bloccare Ephemeral, è un'ottima carta per bloccare Fearsom, stranamente, perché riesce facilmente ad arrivare 3 di attacco, soprattutto con le Ashe, e bloccare Fearsom a ripetizione. È un'ottima carta. E inoltre è OP di suo, è OP di suo e funziona bene nel mazzo, Ballistic Bot è la star proprio. E quindi abbiamo Ballistic Draven e Champ Wamp che generano risorse gratis da scartare, Sampdredger e Rummage che ci fanno pescare, trasformano queste carte bianche inutili in pescate vere, e questo è il motore che tiene in piedi il mazzo, che altrimenti questo mazzo usa risorse abbastanza liberalmente, non come Goard, ma quasi come Goard. Le usa le carte, le muove, le fa ciclare. E questa è l'idea principale. Ora andiamo ad aggiungere un po' di... il resto delle carte, tenendo a mente che siamo comunque... le regioni in cui siamo, e che siamo comunque Ezra, le dobbiamo comunque livellarlo, sto poveraccio. Quindi ci serviranno rimozioni, target, carte che vanno anche face. Cominciamo con due House Spider. Alcuni saranno caduti dalla sedia, House Spider è generalmente una carta super broken, che in questo tipo di mazzo si gioca a 3 tutta la vita, e tanta gente inizia sto mazzo dicendo butto 3 House Spider e poi vediamo il resto. Io preferisco giocarlo a 2, per ora potrei cambiare idea, ripeto, la lista in descrizione sarà aggiornata, quindi se deciderò di fare 3 House Spider o 3 Champ Wamp, la lista sarà in descrizione. il problema è che il mazzo già ha parecchie unità, ha parecchi costi 3, dobbiamo ancora aggiungerne uno, e... è già un mazzo abbastanza ricco di unità per quello che vuole fare. Aggiungere 3 House Spider mi sembrava un po' troppo, soprattutto perché turno 2, sia Ballistic Bot, che Passare e Bancare Mana, sono due giocate perfettamente accettabili. E dato che di turno 3 quasi sicuramente è qualcosa da giocare, non mi è sembrato necessario andare per il full 3 per di House Spider. Inoltre non sto trovando molti aggro in ladder, carte come Grand Plaza rendono gli House Spider abbastanza inutili, perché le giochi per bloccare, ma tutte le sue unità quando attaccano avranno il più 1 di Grand Plaza, quindi... eh, non sono proprio il massimo, ora come ora. Ma certamente non è una carta scarsa, assolutamente ne potrei giocare 3, potrei cambiare la lista domani. Per finire, 3 Arachnoid Sentry, palesemente è una carta fortissima, il fatto che va a caricare Improbulator è un vantaggio marginale, se ne giocherebbero sempre 3 per di questa carta in questo mazzo. È forte, stunna, quindi sinergia con Ravenous Floch, che ovviamente giochiamo in 3 copie, le statistiche sono buone, l'effetto è eccezionale, targhetta per Ezreal, ovvio, Arachnoid Sentry è ovvio in questo mazzo. Andiamo alle spell, 3 Termogenic, mi piace comunque giocare il 3 per, è una buona giocata turno 1, è una buona rimozione early game su cose che costano poco, è una carta versatile, e il mazzo gioco ha un milione di scartini, quindi se proprio arriva a un punto dalla partita in cui è inutile, lo puoi scartare. Ricordate che Termogenic lo potete anche castare quando avete 0 mana, per essere un trigger di Ezreal, quindi una targettata di Ezreal o due danni di Ezreal quando è livellato, anche se avete 0 mana. 3 Ravenous Flock, perché Ravenous Flock questa carta è stupidamente efficiente, un fottio di danni, le condizioni sono facili da ottenere, è fast, costa pochissimo, è OP. 3 Mystic Shot, fortissima, sia per chiudere danno, sia per fare danno a unità avversaria, è ottima, sia come rimozione, che come... ma veramente vi devo spiegare perché è forte Mystic Shot, 2 Scorche Dirt, assolutamente necessaria, è sempre una carta forte, ma prima dell'espansione, prima di Cosmic Creation, c'era sempre il dubbio tra Scorche Dirt e Noxian Guillotine, adesso ci sono veramente delle landmark che dobbiamo levare, e Starspring, sì, se mai ti dovessi trovare Soraka Tamkench, levare Starspring è utile, ma sto parlando principalmente di Grand Plaza. Quella carta è fortissima e molto molto presente in ladder e se non la levi subito può snowballare veramente tantissimo. Per finire, l'ultima carta che gioco è 2 Static Shock. Tante passioni hanno droppato Static Shock da questo mazzo dato che comunque peschiamo parecchio con Rammage e con Sampdredger. Static Shock è un po' costosa, il mazzo non ha una curva di mana molto alta, però è comunque abbastanza costosa, abbiamo 14 costi 3. non fa molti danni diretti, non è fantastica in questo meta, però comunque è un mazzo Ezreal. Io con 0 Static Shock facevo fatica a livellare Ezreal anche magari entro il turno 7, turno 8, e quindi preferisco giocarla. È una pescata in più che non è necessaria, ma schifo non può fare, doppio target, cioè Static Shock da solo è un terzo del level up di Ezreal, quindi ho preferito giocarla. C'è da dire su questo mazzo che mentre le unità sono abbastanza standard e abbastanza intoccabili, e sì, puoi aggiungere una o Spider o un Champ Wamp e basta, le spell sono abbastanza versatili, ok? Questa è la mia versione, puoi giocare tranquillamente due Termogenic, nessuno ti dice niente, puoi giocare, addirittura ho visto qualcuno giocare tre Scorce Dirt, sarà sicuramente frustrato da Grand Plaza, zero Static, ripeto, è lo standard, puoi giocare molto tech in questo mazzo, iterative improvement, funziona come targeting, tra parentesi, sull'unità nemica, quindi livella Ezreal, ti fa fare due danni con Ezreal, la puoi usare su carte come Ballistic Bot, e calare un Ballistic Bot a turno 3, magari fai un Ballistic Bot 2-4, la puoi usare su utilità, come Arachnoid Sentry, su Samp Dredger, su Farron, o su Unità dell'Avversario, è una carta abbastanza versatile, nei miei playtest non è stata mai eccezionale, non la pescavo molto, altre carte da considerare sono per esempio Get Excited, hai abbastanza materiale gratis per usarla, anche se tante persone l'hanno testata e non piace, è a me la stessa cosa, Noxian Guillotine è sempre una possibilità, se il meta dovesse essere ridominato da mazzi come Field Rush o mazzi che hanno tante unità tanto grosse, Yeti, cose così, Noxian Guillotine è sempre una carta giocabile, Goccia, se proprio ti piace puoi giocare Goccia, Monoprogress Day, se il matchup dovesse rallentare, se il meta dovesse un po' rallentare, è una carta assolutamente viabile, Survival Skills, l'ho testata un po', non sono un grande fan, ma devo ammettere di non averla testata tantissimo, generalmente quando la giocavo, quando la pescavo non mi faceva tutta questa differenza, sì, la scarti abbastanza gratis, è bello scartare Survival Skills con un Asha, a zero mana, lui non se l'aspetta, però poi ti rendi conto che comunque hai fatto meno uno per magari salvarti un Draven, un Arachnoid Sentry, ne valsa davvero la pena, non lo so. Quando l'ho testata non mi è sembrata molto molto utile, in genere io in questo tipo di mazzi tendo a stare basso con le tech finché il meta non è chiaro e questo non è un meta molto chiaro, potreste addirittura giocare uno o due Aftershock giusto per avere un po' di danno diretto in più, possibilmente, un'altra rimozione per il Landmark, ma ora come ora, dato che, ripeto, il meta non è stabile, soprattutto intorno al Platino 2 dove sto giocando, ho preferito una lista super super base, super super generica, abbastanza forte contro tutto. Va bene, ho fatto una faticata incredibile, questo è Ezreal Driven, andiamo al gameplay. Questa season avrei voluto rancare in modo più aggressivo, però poi mi sono perso giocando un sacco di Riven lì e soprattutto un sacco di Lucian e ho rankato abbastanza, ma non velocemente quanto avrei voluto, insomma. Perfetto, giochiamo Mirror Match, ovviamente il Mirror Match è popolarissimo perché il mazzo è popolarissimo, questo è uno dei mazzi più popolari e più forti in ladder. Ora, senza andare troppo a esagerare con Guidal Mulligan, tra i Beam è una carta da tenere quasi sempre perché la tieni nella mano, si carica durante la partita eccetera eccetera. Ballistic Bot è sempre un keep e mi piace tenere Termogenica, è una carta generalmente più utile early che late, dato che è molto più facile regolarla. In questo matchup in particolare possiamo colpire il suo Draven, possiamo... Il suo Draven è la cosa principale che vogliamo beccare. Ballistic sicuramente vulnerabile al suo Termogenica, ma non ce l'aveva, quindi perfetto. giochiamo... A questo punto direi Draven. Avrei potuto giocare Ballistic e fare doppie Ignition, ma generalmente mi piace fare entrare Draven e iniziare a mucchiare Ashe. Lui gioca a Draven, potrebbe avere risposte al mio di Draven, quindi per ora me la gioco con calma. Potrebbe avere per esempio un altro Draven in mano, quindi Whirling Death. potrebbe anche avere Termogenic, quindi magari non attaccare sarebbe la scelta sbagliata in quel caso. Se ha un altro Draven è veramente triste la situazione, quindi per ora decido di rispettarlo. Se vai in Open Play quasi sicuramente userò Termogenic. Lui se ne frega dalla possibilità del mio Termogenic e del mio Draven. Bene. Termogenic è due, potrei usare o Termo Beam, Termo Beam direi che la userò al prossimo turno. Adesso voglio giocare o Ballistic Bot o Samp Dredger. Quindi iniziamo con Ignition. Lasciamo a lui la priorità e lui dovrà giocare qualcosa. Perché altrimenti eh. Samp Dredger rispettabilissimo. A questo punto direi che usiamo la nostra Termogenic sul suo Draven. Termogenic a tre ovviamente livella Improbulator quindi eh. Ballistic Bot è qui che genera risorse gratis che genera danno gratis e intanto cresce di attacco. Quanto è forte sta carta? Draven all'Open Attack fa il danno pulito. aveva un altro Draven anche se è arrivato da questa parte della mano quindi non sono sicuro che lo avesse in mano già da prima però dai valsa la pena. Qui potrei addirittura fare Improbulator e levarlo ma preferisco far crescere l'Improbulator e non sbatterla subito in campo. Avrei potuto anche giocare doppio Ballistic ma preferisco giocare Samp Dredger far crescere l'Improb. Forse qui Ballistic Bot sarebbe stata una giocata migliore. Ok lui ha 3 Beam Broadback Protector è una gran brutta carta da trovarsi contro in questa situazione. Questo è un matchup che veramente dipende parecchio dal danno diretto e pescare una cura cioè trovare una cura così gratuita è fastidioso. Dato che ha levato un Ballistic Bot potrei tranquillamente giocarne un altro e conservare Samp Dredger. Qui inizierò seriamente a perdere non solo il terreno ma anche il rush di punti vita e lui ha tante risorse gratis quanto me quindi non è che posso spingere tanto il mio vantaggio neanche da quel punto di vista. Possiamo usare Scorce e Dirt qua facilmente potrei bloccare con Draven giusto per non prendere troppo danno non so se preferisco sacrificare Draven o Ballistic Bot in realtà preferisco sacrificare Ballistic Bot giocando Spinning Axe e scartando Ignition ho bisogno di limitare i danni in qualche modo quindi per ora faccio così Tri Beam a 4 potrei fare Tri Beam sul suo Draven adesso o potrei giocare Samp Dredger e continuare a ignorare il suo Draven sta usando due asce per farmi un danno in più bene lo accetto qui qui posso giocare Samp scarto un Asha ricordiamoci che il suo Draven è a 3 il nostro Tri Beam è a 5 ok potrei anche iniziare il turno con Tri Beam sinceramente Rammage scarta due funghi avrei scartato di più l'Asha però forse vuole provare a livellare Draven il prossimo turno non lo sapremo mai peschiamo un altro Tri Beam è un po' una brutta pescata così avanti nella partita potrei quasi scartarlo di Samp Dredger e poi giocare Tri Beam sì mi sa che devo voglio giocare questo Dredger prima di tutto e pesco un altro Tri Beam wow ve la passa così ok c'è un Pro Abulator su Draven non ho modo di fermarlo è una unità random da 6 vediamo cosa ci dà Mystic Shot sul mio Draven ok teniamo d'occhio i rispettivi Ezreal uh Butter in Ram ok non è una brutta carta è una carta molto meno brutta di quello che sembra ovviamente muore male da Scorch e Dirt purtroppo questo è anche il motivo per cui non vale la pena far crescere troppo troppo solo io non ha modo di fermare in realtà in realtà c'è Ravenous Flock però dovrebbe fare Flock su sto Draven il dubbio ripeto adesso è ha deciso di farlo a Flock su questo Draven il dubbio enorme adesso è avrà Scorch e Dirt per battere in Ram perché se no questa carta potrebbe carriarmi la partita i nostri Ezreal sono entrambi a 3 chissà se ha un altro Try Beam in mano che si sta caricando pure ha Captain Farron onesto apriamo con Mystic Shot su Farron è abbastanza palese che abbiamo Scorch e Dirt in mano ma anche così insomma non è che lui ci possa fare niente Scorch e Dirt e la nostra battering ram adesso crescerà in modo enorme speriamo che lui non abbia Scorch se lui non ha Scorch sono in un vantaggio immenso se lui ha Scorch è peggio è molto peggio peccato che non abbiamo neanche il mana di giocare a Ezreal quindi perché sta giocando quell'ascia non ho capito era pieno di carte era pieno di carte si ah no che cacchio sto dicendo c'era il mana per giocare a Ezreal sembrava strano ok fate finta che non ho detto niente ora ci sono un po' di punizioni che lui può avere se vado in open play la cosa peggiore è sicuramente Arachnoid Sentry potrebbe stunarmi uno tra Farron e battering ram in realtà non è così male l'unica punizione vera era Arachnoid Sentry proviamo a giocarlo sto Farron si dai questo è un matchup sempre abbastanza complicato lui alla fine ha 5 carte in mano 4 prima della pescata vediamo se ha modo di fermarmi tutto il terreno Mystic Shot Noxian Guillotine oh cazzo non pensavo ci fosse ancora gente che gioca Noxian Guillotine eeeh vabbè sinceramente non stavo giocando intorno alla Guillotine è diventata una carta pochissimo popolare non sarebbe cambiato niente io avrei attaccato lui avrebbe fatto Guillotine io avrei giocato Farron per usare il mana lui avrebbe fatto Mystic Shot e Guillotine non siamo messi in una bruttissima posizione il nostro Improvvioletor è a 3 che non è il massimo ma non è neanche male abbiamo le asce come lui abbiamo Ezra in campo lui non avrà mai il mana di giocare tutte le asce neanche lontanamente mi metterà in range di Lethal e io su questo voglio giocare adesso probabilmente scarterò una delle asce con Rammage giusto per avere più danno veloce chissà se lui può avere qualcosa in risposta una carta che rimuove Ezreal non dovrebbe esserci dovrebbero facilmente però può avere due Mystic Shot per esempio vediamo cosa fa Termogenic può essere un'altra carta che mi rovina Ezreal in caso di Termogenic penso non avrò paura di fare tipo Rammage scattando o una Decimate o un Ravenous Flock per fare un danno questa è una situazione in cui non penso avrò il tempo di giocare tutte e tre le Decimate il prossimo turno la prima cosa che voglio fare è andare in Open Attack quindi da 5 lui fa ancora veramente fatica a uccidermi la sua scommessa migliore adesso sarebbe mischiarmi i funghi nel mazzo sperare che io ne pesco uno e e cercare di chiudere così cercare di chiudere con quest'altra Decimate o un doppio Mystic Shot Termogenic su Ezreal quindi palesemente Ravenous Flock peschiamo Champwamp ok Champwamp è una pescata strana dato che lui ha palesemente Flock boh in realtà non penso ci sia niente che può succedere se gioco Champwamp se gioco Champwamp dovrei 100% avere la partita perché posso giocare a burst speed fungo fungo ram e vinco la partita GG in questa posizione avevo 200 modi per provare a chiudere ho dovuto scegliere il modo più garantito tra virgolette di chiudere in risposta a Decimate avrebbe potuto avere che ne so doppio Mystic Shot più qualche altro Mystic Shot Get Excited magari giocava Mono Get Excited quindi giocare Decimate non era vittoria garantita giocare attaccare direttamente con Ezreal era abbastanza sicuro fallire perché aveva portato a 3 di vita era setup per Ravenous Flock giocando Champwamp lasciando a lui il turno qualsiasi cosa avrebbe fatto io in risposta avrei potuto fare 3 burst e la partita sarebbe stata vinta sicuro probabilmente non cambia niente lì è soltanto una questione di ottimizzazione andiamo col secondo game un altro mirror match e va bene ripeto il mazzo è super popolare quindi aspettatevi mirror match mazzo è forte complicato divertente entusiasmante ha un matchup decente contro qualsiasi coach è ovvio che tutti lo giochino come al solito teniamo Improbulator prima la peschi questa carta meglio è per il resto Ballistic Bot Draven queste carte sono fortissime bot contro bot attacco proprio Piero pronto a rimuovere di Flock se ha bloccato quasi sicuramente anche lui ha Flock e mi sta bene non ce l'ha perfetto questa potrebbe essere una partita da doppio Ballistic a due mana è molto probabile che avrà un modo per per uccidere questo Ballistic in realtà preferisco preferisco Draven tra Draven e Ballistic tendo sempre a preferire Draven soprattutto se ho degli Improbulator da caricare a Erly ricordiamo che lui come noi giocherà Arachnoid Sentry quindi l'open attack è sempre più safe dell'open play in questo caso attacco ovviamente anche con Draven attacco anche col Ballistic e lui stranamente non vede che posso fare questa cosa qui dato che l'Asha è una carta generata più uno di Augment e più uno di Asha e gli uccido anche l'altro Ballistic Bot questo Ballistic finora si è portato a casa due Ballistic Bot nemici fantastico ha usato Rummage per scartare Rummage allora o ha una mano ingiocabile oppure scarso cioè mi dispiace però cazzo ma che fai vabbè giochiamo un altro bot non vedo negativi nel giocare il secondo il primo a questo punto cioè è ovvio che me lo uccide però il secondo potrà continuare a generare Ignition gratis e a questo punto penso che le Ignition gliele tiro e scarto le Ashe gioca Draven qui c'è la seria possibilità di giocare il mio Ezreal per bloccare il suo Ezreal e poi ucciderlo con Flock lui ha usato già un suo Flock ci ha messo molto tempo a uccidere il Ballistic Bot a 1 qui entra un po' di Endreading il suo Ravenous Flock è venuto da questa parte della mano quindi era appena pescato è improbabile che in questa mano ci siano termogenico Mystic quindi questo Ezreal mi sento mi sento volonteroso di rischiarlo aspetta con Draven Draven palesemente lo lasciamo passare allora cosa torna possiamo o giocare Ignition o sparare un Tribeam su Draven su Draven in particolare per giocare intorno al suo possibile Whirling Death si penso sia la cosa migliore giochiamo Tribeam Draven va a casa eh ok lui rimuove il nostro Draven perfetto non è male fase caretaker in realtà posso dare più 3 a Ezreal aspetta gli da più 3 di attacco più 3 di salo gli da più 3 di attacco allora vi voglio dare a Ballistic Bot i più 3 di attacco così lui vuole bloccare Ezreal se blocca Ballistic Bot Ballistic Bot gli fa un buco in petto eh oppi questo sarà quasi sicuramente un altro trade di Ezreal lui avrà un modo per rimuovere il mio però guardate i suoi HP io ho ancora un altro Tribeam lui ha un terzo ramage quindi aveva visto 3 ramage in mano anche contro ramage non scatterei mai ramage di ramage cioè ramage in questo mazzo è proprio è l'anima del mazzo questo Ezreal non arriverà a fine turno poco ma sicuro mi stunna Ballistic Bot è una mossa molto strana quasi come se vuole interessante un altro un mystic shot termo su Ezreal sto mystic shot non lo voglio usare preferisco tenermi Ezreal e giocarlo quando sarà livellato perché non gli manca molto cioè è 2 di 6 però ho 3 target in mano quindi siamo pari di risorse lui potrebbe avere un termogenic che ha caricato per tutto il game io sicuramente ne ho uno il suo termogenic dovrebbe essere a 3 o a 4 se fossi una partita super seria tipo una partita di torneo starei contando i rank del suo termogenic ma non lo sto facendo è a 5 addirittura ok ho trovato Radiant penso di essere abbastanza sicuro adesso giocando Ezreal per far andare tra i beam oppure posso giocare a un spider e poi usare la Venus Flock per levargli la cosa sì penso sia la cosa migliore quanto mana ho 8 mana quindi non riesco a giocare tutto in un turno dovrei schippare Ezreal eh lo schippiamo Ezreal dai se ha un altro try beam potrebbe essere preoccupante ma altrimenti no cioè così ho dei block perfetti posso fare Flock qui se attacca e viene bloccato dal ragnetto posso giocare Ignition quindi lui ha 8 di vita mi stun lui il che vuol dire che Ezreal questo turno è praticamente incontestabile non ho bisogno di giocare tra i beam anche se forse lo voglio giocare per stompare il terreno sì a questo punto far andare la partita troppo per le lunghe a questo punto non ha molto senso purtroppo ho beccato un 4 mana un po' scarsino ma vabbè ce lo facciamo andare bene questa viene bloccata qui questo viene bloccato qui preferisco tenere in vita Fuzzy Caretaker dato che lui non avrà unità all'inizio del suo turno e Fuzzy Caretaker spacca veramente mamma mia sembrava una brutta carta da trovare da Improviolator invece mi farà tipo 6 danno solo del suo effetto adesso ho praticamente vinto sull'open attack e ho un Ezreal in mano che era 5 di 6 quindi GG e questo sono riuscito anche a finire questa missione grande si vede che ho giocato questa settimana era un po' che non vedevo i tre forziari diamanti e questo è Ezreal Driven la parte 2 esce domani ripeto scusatemi se ho lasciato il canale senza niente non solo per le due settimane di pausa ma poi ci ho messo una settimana a far uscire il primo analisi gameplay in compenso dopo la parte 2 pochi giorni dopo inizierò a far uscire i video di coaching i coaching privati su Discord che ho registrato con gli utenti che avevano guadagnato insomma il diritto al coaching va bene Dottorist92 vi saluta buona serata